Si chiama Sara Widowson ed è una mamma di 27 anni d'età e un bimbo di soli 2 anni ed ha una vera e propria ossessione, infatti non riesce a uscire da casa se la batteria del suo cellulare è al di sotto del 60%. Ci troviamo a Walter Stern e il mito, Sara è aterrorizzato di rimanere senza lo smartphone, se il telefono si spegne ho dei viri attacchi di panico, mi iniziano a sudare le mani, aumentano la frequenza cardiaca e addirittura mi trevano le gambe. La situazione è peggiorata da quando ci sono gli smartphone, con i quali scrivi email, messaggi, accedi ai social, senza telefonino mi sembra di essere senza contanti con un mondo esterno. Il motivo della dipendenza si chiama nomocopia, la valore di essere con un disco messi risiederebbe in un trauma, il suo della Sara nel passato, la ragazzina o un uomo mi ha seguita di uscire da scuola, nessuno ha avuto il mio soccorso, se a quel tempo avessi avuto un cellulare avrei potuto chiedere aiuto, o quando sono mamma la mia ossessione è peggiorata molto, chiamo che possa avvenire qualcosa a mio figlio e di essere il raggiungibile. Vi ringrazio per l'ascolto e il video termine acqua, iscrivetevi, commentate e un caro saluto.